Tra il 21 febbraio e l'8 marzo, le operatrici e gli operatori di cassa dei vari supermercati dell'Aspiag Service Desper Fiuli Venezia Giulia hanno coinvolto i clienti nella campagna Il mondo ha bisogno delle donne. Fabrizio Cicero, direttore regionale, comunica l'entità dei fondi raccolti grazie alla solidarietà della popolazione del Fiuli Venezia Giulia. Abbiamo raccolto, grazie ai nostri clienti, oltre 83 mila euro. Le nostre colleghe, i nostri colleghi nei punti vendita, per oltre 200 mila volte hanno raccontato qual era il progetto e a quale scopo raccoglievamo questo denaro. Siamo veramente orgogliosi e ringraziamo tutti i nostri clienti e ringraziamo l'associazione Voce Donna che ci ha permesso di sostenere un'iniziativa così lodevole come la loro. La violenza di genere è una violenza che purtroppo non si riesce a debellare in questo momento, ne sentiamo ogni giorno. Noi vogliamo lavorare per alzare l'attenzione e far sì che tutto questo venga meno nel più breve tempo possibile. La presidente di Voce Donna, Silvia Brunetta, ci illustra come saranno impiegate le risorse. Una cosa che noi da tanto ci pensiamo come associazione è quello dell'acquisto di una sede perché stiamo pagando l'affitto da tanti anni e questo è oneroso. Il fatto di avere una sede ci permetterebbe poi di spendere questi soldi in altre iniziative. La soddisfazione dell'amministrazione comunale esposta dal vice sindaco Emanuele Loperfido. Ringraziamo DESPAR per aver scelto la nostra città come lancio dell'iniziativa anche come conclusione con questo bellissimo assegno che fa vedere come la solidarietà dei frullani e dei porti di noi sia veramente grande. Il significato della campagna nelle parole dell'assessore regionale alla cultura e sport Tiziana Gibelli. Voce Donna salva delle vite, le salva in senso fisico purtroppo anche perché il femminicidio è una realtà con la quale combattiamo ma le salva anche da una non vita vissuta magari tra le mura domestiche subendo violenze psicologiche. Per carità sono utili anche i contributi di poche migliaia di euro ma diciamo che 80.000 euro sono più utili quindi grazie. La Polizia di Stato impegnata nella prevenzione della violenza sulle donne dalla voce del questore Luca Carocci. La Polizia di Stato ha lanciato una campagna dal 2016 che si intitola Questo non è amore dove evidenziava tramite opuscoli che vengono poi ripubblicati ogni anno quelli sono quei comportamenti che devono considerarsi comportamenti sentinele che devono destare allarme perché potrebbero poi sfociare in una commissione di reati molto gravi di cui purtroppo la cronaca nazionale se ne occupa quasi quotidianamente.